Colti in flagranza dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore della stazione di Angri, tre ladri che stavano mettendo a segno un colpo nel pomeriggio di ieri in un'abitazione ad Angri. I malviventi con il volto travisato, approfittando probabilmente dell'assenza dei proprietari delle abitazioni del circondario, avevano fatto eruzione in un appartamento disabitato al momento ed indisturbati. Stavano facendo incetta di oggetti preziosi e di quanto trovavano di importante in casa. Ad evitare il colpo è stato l'intervento dei vicini, che accortisi che qualcosa non andava e probabilmente sentendo strani rumori hanno allertato le forze dell'ordine. Da qui l'immediato arrivo delle pattuglie dopo l'allarme lanciato al 112, dove venivano segnalate persone sospette girare nei paraggi di case dove vi erano assenze dei proprietari. Da qui l'arrivo dei militari dell'arma che avrebbero colto sul fatto i malviventi che stavano tentando il furto operando con arnesi atti allo scasso. Da qui la sorpresa e il tentativo di fuga dei tre ladri. I tre sarebbero quindi stati fermati e condotti in caserma. Nella concitazione del momento due di loro pare abbiano anche provato a fuggire, mentre un terzo sembra abbia provato a nascondersi in casa, ma sarebbe stato scovato poco dopo dai militari dell'arma intervenuti, che intanto avevano acciuffato anche i complici nel tentativo di fuga dopo un breve inseguimento.